Silenzio, dolore, incredulità. Tutta Bercetto si è stretta attorno ai familiari di Vincenzo Romano, il 31enne deceduto giovedì scorso sull'Appennino Reggiano, sull'Alpe di Succiso, in circostanze tragiche, travolto da una slavina mentre stava praticando una discesa di sci-alpinismo. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio alle 15 nel Duomo del Paese. Il rito è stato celebrato da Don Giuseppe Bertozzi. C'erano i rappresentanti del soccorso alpino che avevano partecipato alle operazioni di recupero. C'erano tanti escursionisti che in passato avevano preso parte con lui ad altre spedizioni o semplici gite su crinali più o meno lontani. E c'erano le autorità, il sindaco Luigi Lucchi con la giunta al completo e gli esponenti tutti del Consiglio Comunale, oltre a rappresentanti degli enti vicini. Nei prossimi giorni saranno inoltre celebrate le esequie dell'altra vittima, l'amico Simone Maraffi, ventunenne, anche lui bercettese, morto il giorno dopo l'incidente all'ospedale maggiore di Parma. Quella di oggi è stata una giornata di lutto cittadino per Berceto. Tutte le attività commerciali del Paese hanno abbassato le serrande dalle 15 alle 17, esponendo anche un manifesto con l'immagine del ragazzo. Mentre alle 12, negli uffici pubblici del territorio, si erano osservati tre minuti di silenzio. Vincenzo Romano era molto conosciuto nella zona, lavorava infatti come cuoco nel ristorante di famiglia Il Tempio dei Funghi Darino, lui che del fondatore del locale era il nipote. Sull'incidente della scorsa settimana intanto la procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta. Un atto dovuto, ma la magistratura intende valutare ad esempio la presenza di cartelli segnaletici nei posti opportuni per indicare la pericolosità del luogo e l'eventuale rischio del distacco di massa nevosa dalla parete rocciosa. L'attività della procura è tesa inoltre a fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto ricostruendo gli attimi immediatamente precedenti al fatto.